Toh, bega di questo, così impari a uccidermi, compagno, c'è un altro Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego Oddio, che culo Eh, che sfiga Eh, niente Dove ricaricare, però c'ho otto colpi Non c'è la gvz C'è la manovella Cittazione ad alto calibro Dai Preso un altro Preso un altro Preso un altro Uuuuh, un'altra tripla Belletto di compagnia, bentornati con un nuovo video qua Su Battlefield 1 Ci troviamo nella mappa di Zarizzi, nella modalità operazioni E qua subito c'è gente che vuole un po' di sberle Allora, subito uno gli ha dato fuoco Bella lì Bella lì Bella lì Bella lì Non stavo capendo dove, che cos'era lui, dove era lui, insomma Ma abbiamo già conquistato il settore, ma pronto, ragazzi, vogliamo difendere oppure no? Oh Che, che? Da dove cavolo si è sbucato tu? Parte 2 Let's go, let's go, let's go Oh, grande ma Cioè, ha spottato questo? Preso Mannaggia Grazie Fa un tempo mi ricordo che potevi scavalcare Eeeh, ecco che potevi scavalcare In modo tale che io adesso mi metto qua Ehehehe Malvao C'è uno col mortaio Eccolo ti la Allora, te ti lancio proprio la granata sotto il culo Sì lo so ragazzi Sono stronzo lo ammetto Potevo anche evitarlo Lui loro camperano Io agisco Vai 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 ci sono Occhio Ma questo No ha finito colpito Preso aiuto Ripieghiamo subito Ah perché qua è importante Buongiorno Guardalo guardalo Che spavento Presi due Chi è? Chi è? Chi? Cosa? Non vedo non vedo non vedo non vedo non vedo In quanto mi stavano sparando Che poi ditemi quello che volete Ma io su Battlefield 1 Anche già su PlayStation 4 Facevo fatica a volte a vedere le persone Tacci due Mi sta guantappando sto stronzo Non capisco perché la gente non flanca Come faccio io Qua sua Che spavento mi son preso Vai 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 Che ce l'abbiamo fatta Dai che ce l'abbiamo fatta Su 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 Bravo Basta sempre lamentarsi Sui giochi ragazzi Ricordatevi Regola Regola della vita Basta sempre Lamentarsi E accadrà l'opposto Dopo nemmeno un secondo Ma fa un bagno tu? Ma i nostri No i nostri stanno perdendo B come? Ma come? Stanno perdendo pure A Oh merda Ok ho capito come è stato possibile Tutti qui erano Dai su 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 Pushate Dai su Non abbiate paura Guardate mortacci Tu dove cavolo sei campato tu Ok Presi due Ah le fiamme Le fiamme Le fiamme Le fiamme Dove pensi di andare scusami Cugino Ah ma io sto pushando da solo qua No ho finito i colpi mi sa Non dirmelo Non dirmelo che avevo finito i colpi Perché ho visto che ho tolto l'arma Oh il mio team che push Bravi ragazzi Vi voglio bene Toh Begati questo così impari a uccidere I miei compagni C'è un altro Non ci credo Non ci credo Non ci credo Ti prego ti prego ti prego Ti prego ti prego ti prego Oddio che culo Eh che sfiga Eh niente Eh niente Insomma È stato un 50 e 50 Dai Ma quando l'abbiamo preso l'obiettivo Scusatemi Quando e soprattutto come Mi verrebbe da chiedermi L'obiettivo finale Portata di muano Ma Sono aperto LOL Non sono manco uscito dalla chiesa Già quello lì mi ha Quasi un tappato E ho sparato a casa una granata E l'ho sceso uno Quante cose randomiche Che stanno succedendo In Nono secondo Allora qua la tattica migliore È prendere Diciamo queste casette qua davanti No? Però bisogna farlo Molto piano Molto con calma Vai preso Preso Ok Ce la facciamo a girare Subito l'angolo Ho colpito uno Vai preso Sto flangando Preso un altro Preso Dove ricaricare C'è il tempo di ricaricare C'è il tempo di ricaricare vero? Dai sì Abbiamo preso A intanto Dai 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 Ricarica 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 Scavalchiamo Ed entriamo subito Se riusciamo Vai Ecco l'ho preso Deve ricaricare No Ah no È surriscaldata Ecco cosa ha fatto prima Non mi ricordavo che se fosse surriscalda Aspetta Facciamo così No No Eh te pareva E tu dopo arrivi Stronzo col pompa Non potevi arrivare un secondo prima Dai dai mi spawn Olè Namu Bravo Coltellato Preso Non ho capito più un cazzo cosa ho fatto Sto facendo stragi Oddio Oddio Sono in feed No Che sfiga L'automatico 118 D'era viciato È tipo impossibile Battro Se Se avessi avuto Penso qualsiasi altra arma Me lo sarei fatto Guarda Granata a caso Che Mi faccio una kill Oddio Ho fatto però Danni Adesso Ho fatto veramente una kill Ci abbiamo vinto No abbiamo perso Che sfiga Allora Secondo attacco ragazzi Rifacciamo esattamente Quello che abbiamo fatto prima Attacchiamo subito A Prendiamo le casette E poi Belli tranquilli Entriamo Su B Sta per sbucare uno qua davanti Preso No da dove No Guardate dove era quello Maledetto Allora abbiamo un po' di gente qua Poi push qua Perché Tanto che Non ci credo Ce n'era uno Che ha imparato a sinistra Non l'ho visto Cioè l'ho visto Proprio appena sparato Io ho visto la fiammata dell'arma Allora Dai proviamo A pusharcela qua Ok Lipki Fatto Avanti prossimi Merda c'è un po' di gente qua dietro È un problema C'è un problema C'è un po' di gente qua dietro Crederci Preso uno C'è la manovella C'è la manovella Citazione ad alto calibro Pronto di nuovo a combattere Ok Ha fatto uno Dai Preso un altro Preso un altro Preso un altro Un'altra tripla No Da dove Ma dai Ma tra tutti quanti Proprio a me doveva colpire Questo qua C'è C'erano tipo 36 persone Dentro B Io ero l'unico fuori Ha preso me quello Comunque Signori 77-24 Primo in classifica Becompa in Italy Siamo arrivati I primi per difensori Di bandiere E abbiamo fatto Top eliminazione squadra Top punteggio supporto Tutto sommato Dove dire Not bad Not bad Come ritorno su Battlefield 1 Ci sta dai Detto questo ragazzuolo Il video vi finisce qua Spero che vi sia piaciuto In tal caso Fatemelo sapere Con un bel mi piace Ed un commento Dicendomi se vorreste Altri gameplay Qui su Battlefield 1 Iscrivetevi al canale Se ancora non siete passate Da tutti i miei social Che trovate qui sotto In descrizione TikTok Discord Telegram E Instagram Come troverete anche Il canale Viola Dove mi potete trovare Live da lunedì E venerdì Tutte le sere Compreso questa sera Mi raccomando Vi aspetto in live Io vi ringrazio Per avermi seguito E noi ci vediamo Con un prossimo video Sempre by Bad Company Italy E noi ci vediamo E noi ci vediamo